Salve a tutti e benvenuti in questo settimo episodio di Pokémon Lite Platinum! Sono contento che questa serie vi stia piacendo, sì sì, può dire così, può dire, sì può dire. Ok, allora... Ah sì, ho mandato la squadra tutta a livello 30 dopo un bel casino, ok, anche. E basta, dobbiamo avventurarci. Allora, innanzitutto, questi li battiamo subito così. Oh, perché? Già tolta bene. Ok. Siamo arrivati alla città di non so dove. Esmeralda. Oh, ma è la città quella che mi dicevano fin dall'inizio. Dirigiti alla città di Esmeralda e tutta la verità mi sarà data data. Proprio quella. Avete capito voi qualcosa di questo inglese? No. Eh, non porta molto bene, eh, questa cosa. Devo mettere un non-porte, come il primo. Ok, vabbè, andiamo. Hello, exit, telegram, team, team, team. Allora, e loro hanno... Professore, aiutiamo, aiutiamoci tutti che ci vogliamo bene. Gary Dors, sai più avanti. Così c'è l'atmosfera più, proprio. Molto più. Team Team Team, we are attack, blablabla. Blablabla. Team Team, we are... You can... Can... Enter. Puoi entra. Amen. Tu puoi passare. Qua chi c'è? Che vuodame? C'è chi che ducchi? No. Tu non puoi... Passare... Because you are stupid. Allora, io dico... Eh, va bene. Mi dederò stupido. Io so stupido. Allora, non possiamo passare. Quanto pare. Però qua chi c'era? Dai, rosso, battilo! È un pappamolla! E poi è anche inutile. Cioè, tutta sta strada per... Per vedere due che attaccano... Oh, giù, ma c'è la guerra? Non possiamo! Tipo, dover parlare con qualche dunuchino? Questo dell'albero. Cacchino, parlare! Sì, me lo faccio dire. Ah, no! Prima, ma... M'hanno dato qualcosa? Ci stavo pensando in questo momento. Prima ho mandato qualche perché... Mi sa che devo tornare indietro a curarmi... C'è meglio. Subito anche. È morto. Pazienza. Bull B. L'ammazza proprio tutti. È tipo un'arma letale. Lo curiamoci. Mandato questa cosa qui. Guardate, eh. Ehm... Bag. Steam Uniform. Usa. Se parlo con loro... Mannyville. Piuminus. Bad place. Va molto anche più veloce. Con la tuta così. Guardate! E non sto schiacciando niente. Se schiaccio B... Guardate! Sta volando! Manco... E forse... Uuuuh! Adesso tipo... C'è vai duecento chilometri orari... Minisecondo... Sei dall'altra parte. Allora, vediamo che cosa fare. Sono uno di voi. Lasciami passare. Sono uno di voi. Lasciatemi passare. Sì, grazie. Ma perché? No, si è tolto la... Tenda. In testa. Sono un po' troppo forte, forse. No, dai. Non sono forte. Un senda e non ne avevo visto ancora. Un go-albat effero. Dovevo usare un tipo un po' di tipo eletto, ma... Sai. C'è gente strana che... Non ce li hai po' di tipo eletto. Perché... Vabbè. Un po' mistero. Dannazione. Intanto... Hanno imparato qualche mossina d'evoluccia. What the hell? Ok. Almeno noi siamo forti. Non ci scorreggia nulla. E non ci scorreggia nessuno. Dai, su! Morti! Che cavolo sto facendo? Scratch non funziona. Scratch non funziona. Blah, 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 blah. Sendala ancora. Non solo senda. È monotro. Sei passato. Hai vinto. Ciao a tutti. All'arboristeria! Ember! Ember! Sì, se non provo. Sendai. Ember! Ember! Sì, se non provo. Acchio. Qua è Ember dove lo metto. Qui lo metto. Brazor Beef. Bluff Beef. Zibley Feef. Tipo scurità. Ci serve la mossa finta. Fight Attack. Schieppa. Super efficace. Che roba, signori. Mi chiamavano un giorno. Per dirmi. C'è una foca. Ma che cacchio! Non so se crederci o non crederci. Ebbè, non sarebbe male, eh. A posto di coso. Nidorina. Sì, Nidorina, via! Addio, sei stata sempre nel cuore. Allora. Andiamo a prendere questo Zorua, a quanto pare. Pichiamoci il Zorua. Ah, devo rindossare la maglietta. Perché se no loro mi dicono. Non si è bella così. Allora devi incingiagna. Grazie, eh. Grazie, grazie. Mi chiamate tutti e tutti. Tutti deboli siete. Chi ci volete fare. Sì, Zorua! Oh, Zorua. Livello 5! Che me ne faccio, livello 5! Schifossili. Comunque, un Pokémon quasi, tranne l'episodio 6, ci sono stati cambiamenti nella mappetta. Esploso. Ma è scemo. Tanto io ho la super pozione, no? No? Sì. Ah! È tutto carico. È una bella pozione. E adesso sticavo di chi mi ammazzate. Tu? Sì, fatevi sotto che io sono un pro. Non ho paura di voi. Via. Sì, sì, sì. Avanti. Sì. Non mi interessa niente. Mi frega niente. X. Eh... Pokémon. B... Bullaby. Vai. Ha fatto maledizio! Oh, ne ho matto! È morto. Flame attack! Oh, no, ha fatto... Com'è? Come si chiama? Ah, non arrivo ancora a tolto grow. Pur ugly. No. Continua con fight attack. Bellissimo, bravo. Facciamo una cosa così. Perché ha fatto, tipo, un verso così? Gli ha dato un verso strano. Eh... Io gli darei roba ancora. Grazie al cavolo, grazie al cavolo. Siamo ammazziti, roba sono finiti proprio. Ok, non mi ammazzo. Zoro, sale a livello 6. E basta. Davvero. Drift Blue. Ah, io avrei anche Flam Tower, ma vediamo se poi. Non sarà mica Lancia Fiamme, vero? Flam Tower Tower. Va bene, Lancia Fiamme, Lancia Fiamme! Che ci cambia a noi? Non lo so. Professoressa, abbiamo vinto. Ho vinto. Oh! Oh! Ma perché? Donnazione! Sempre, è sempre così. Salve. Subito al lavoro, eh. Manco un attimo di pausa. A chiedervelo, eh. Ma va bene, fa lo stesso. Ah, va bene, non vedo niente. Ah, ma no, buone. Va bene, abbiamo lavorato, posto. Andiamo a vedere in giro. Allora, innanzitutto curiamo la squadra. Facciamo sempre una cosa così, no? Gli do. Gli do, gli do, gli do. Condividi di esperienze. You got a blablabla. Ok. Ok, voi non siete generosi. Andiamo alla gente povera a rubarli, vai. Rubarli. Ci regalali qua. Pikachu. Pikachu! La porta è chiusa. Lucky Punch. Cos'è? Ma chi sei? Allora, che cosa? Qua c'è una palestra. C'è una palestra, infatti. Ma prima devi battere, bla 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 bla. Vediamo che Pokémon mette. Bisogna stare attenti, eh. Una bella battaglia? Come no? Pokémon di tipo lotta? No. Erba ancora? Ma davvero? No, è cosa? Pokémon di tipo lotta. Quindi, mi dispiace ma vi faccio tutto il foro. Cavolo. Ah no, è super efficace. Nice! Zorba sale a livello 8. Un Bulbasaur! Un Bulbasaur! Bulbasaur! Un Tartwig! Eh! Sto morendo! Zorba sale a livello 8. Madonna. Allora. Bag! Bag! Eh... Bullaby item. Give. Un scavolata. Niente. Niente. Rob! Non scappare! Take. Tac. Tic. Ok. Brrrr! Peck, 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 peck. Fanta... Oh, ma no! I Venusaur. Schifo che fa proprio il Venusaur. Fa schifo. È morto! Come è morto! Dannazione, ma... Che cosa avete? Sono imbattivi a quanto pare oggi. Basta! Ah, io me ne vado. Sono offeso. Cavolo è sta cosa? Via, andiamo a curarci, guarda che è meglio. Ho bisogno di una mossa di tipo volante forte di sto... Bullaby, non voglio insultarlo. Sta gallina. Stupida. Appunto, non voglio insultarlo. Ecco. E mo? Che cosa? Ah. Ah. Ah, ok. Sono tipo... Un mostro. Guardalo che fregatura. Non mi fa neanche passare. Hanno fatto delle parti così glitchate. Guarda, eh. Guarda che... Però... Ma io non capisco cosa c'è qua. Schiaccio tutto, ma... Fatti sotto! Oh! Cos'è Pursuit? Quanto fa... Pursuit? Ah, Pursuit è cosa? Sì, pecc, pecc. Dato niente, è proprio zero. Usorbo sarà a livello 12. Bullaby è paralizzata. E non riesce a muoversi. Bullaby ammazza... Che cosa stava per imparare? Nooo, ho fatto tipo una cavolata delle mie. Sì. Oh, ma neanche di livello, cavolo, è salito, eh. A pagarlo. Don Grovail adesso ti ammazza, eh. Oh! Oh, Bullaby è pure salito, eh. Sì, adesso? Ciao. Miefu! No. No. Miefu, no. Miefu, non fare cavolate. Miefu, se ti fa un attacco da... Ecco. Fortuna. Ok! Ok, diciamo che... Ho fatto una scivata. No. Stavo scherzando. Però... Devo anche fare una cosa tipo così. Ok. Torniamo indietro. E andiamo a combattere contro la capopalestra. E la... Seconda palestra. Seconda palestra tipo erba, anche questa. Valla cattiva. E c'è la torta a questa fana cattiva. Vai. Pec, 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 pec. Che pec, pec. Guarda, guarda, guarda. No, basta. Io cambio, cambio. Jigglypuff. Come Jigglypuff. Bullaby, vai. Vi se ne frego. E' il Jigglypuff. Che Jigglypuff. Crepa, ti prego, crepa. Crepa. Bravo. Dannazione. C'è proprio inutilità everywhere. Bravo, Zuru. Zuru, bravo. Che cosa che tu spawni e subito... Morto, crepato, schifoso. Perché? Perché sì. Tipo, esperienza, me ne danno un'attacca, neanche. Eeeh, TM09, 118, e... Vabbè. E ora sono pronto. Quindi, grazie a tutti per avermi visto anche questa settima puntata, mi sapevo per ammazzare. Io sono Exit... Madonna mia, mi stavo per ammazzare. Exit77, spero che il video vi sia piaciuto. Mettiamoci qua. Insieme al banzone. Eeeh, ciao a tutti.